Sono molto contenta di essere qui a festeggiare, a celebrare la festa della libertà e della democrazia con tanti giovani, che è la cosa più importante e più bella e è il messaggio che vogliamo portare avanti, sempre come ampia e ampia. Io sono qui a sostituire indegnamente Osmana Benetti, che ha sempre portato lei i saluti dell'ampia e dell'ampia. Osmana sta bene, partecipa a tutte le nostre manifestazioni, è stata presente lunedì, ma si deve un po' risparmiare e siccome domattina ci saranno le manifestazioni del 25 aprile, allora è giusto che stasera magari vada a letto un po' più presto, però sta molto bene e vi porto i suoi più grandi saluti e il suo abbraccio. E lo stesso per Cesarina Turinelli, che è un'altra delle nostre donne, delle nostre due associazioni. D'altra parte le donne sono presenti perché sono state tante le donne partigiane e che hanno fatto la resistenza, tra l'altro sapete che quest'anno avremo anche i festeggiamenti dei settant'anni della resistenza. Questi sono i miei saluti e vi ringrazio di essere tutti qua. Buonasera, io volevo ringraziare invece tutti quelli che ogni anno rendono possibile questo spettacolo e sono le istituzioni, il comune che ogni anno ci garantisce la partecipazione grazie alla concessione del Goldoni, la provincia che ci sostiene e poi l'arci solidarietà con Marco Solimano. Volevo dire una cosa, a quello che ha detto lei c'è poco da aggiungere, cioè quando noi venne in mente di fare uno spettacolo e di coinvolgere il più possibile scuole di danza, ragazzi che suonassero e in questo caso sono venuti fuori anche poi i carcerati della casa circondariale, volevamo estendere il più possibile il messaggio di questa festa perché il 25 aprile deve essere innanzitutto una festa. Lo spettacolo è una libera interpretazione della fiaba di Pinocchio ed è molto interessante quello che scrive Alessio Traversi, vi leggo soltanto le ultime parole. Sì, è tempo che il burattino diventi uomo, che creda, obbedisca, combatta, che non dia scampo ai nostri nemici e infine neanche ai nostri amici, neanche a noi e neppure a se stesso. Finché da quel pezzo di legno abbattuto non nascerà davvero un'altra storia. Ecco, questo è un invito a non essere mai indifferenti, a cercare di combattere perché la democrazia conquistata a duro prezzo e con tanti sacrifici dai partigiani e da chi lottò per liberare l'Italia dal nazifascismo venga mantenuta a dispetto di tutto e di tutti. Quindi cerchiamo di crescere un po', tutti. Passo ora la parola a Marco Solimano, grazie. Io volevo ringraziarvi a nome dell'Arci e intanto invitare qui con noi il sindaco di Livorno Alessandro Cosimi e il presidente della provincia Qutufà. Grazie a voi per essere intervenuti questa sera. Il 25 aprile è la festa della libertà e della democrazia e io penso che a Livorno la stiamo festeggiando oramai da anni nel modo migliore. Questa contaminazione delle associazioni partigiane con un'associazione come l'Arci ma ancora di più con il laboratorio teatrale che abbiamo sviluppato da oltre 15 anni all'interno della casa circondariale è un fermento ed un segno di passione civile e di democrazia. I temi della libertà, della qualità della nostra democrazia oggi sono all'ordine del giorno. C'è una grande preoccupazione che attraversa i territori ma attraversa anche le nostre vite e penso che occasioni come queste sono anche un segno di speranza e un pensiero, quello che un'opportunità diversa è possibile che probabilmente lavorando insieme anche un paese diverso è possibile. Noi siamo orgogliosi di lavorare con l'Ampi, con l'Ampia, con il coordinamento femminile. Penso che le radici della nostra democrazia siano esattamente lì. Noi dobbiamo ringraziare i partigiani per quello che ci hanno regalato un bene inestimabile, la libertà dopo una dura lotta contro il nazifascismo e l'essere oggi qui insieme alle associazioni partigiane, al carcere, ai detenuti e a tante persone come voi rappresenta davvero una speranza possibile per il nostro futuro. Dunque, grazie ancora per la vostra presenza e darei la parola al Presidente della Provincia, Cotufa. Io apprezzo moltissimo questa iniziativa che mette insieme tanti giovani talenti livornesi e coloro che sono ristretti nel cacere e che appunto si preparano a rientrare nuovi e migliori nella nostra società. È un gesto di solidarietà e di attenzione, è un gesto che guarda con fiducia a un futuro, a un futuro positivo per i nostri giovani che qui si esibiscono e per tutti noi e per gli altri. A questo futuro bisogna operare con grande impegno e io faccio mia l'appello che il Presidente napoletano ha fatto a tutti quando ha accettato, e io lo ringrazio proprio per questo, il nuovo incarico alla Presidenza della Repubblica. Ha detto, auspico fortemente che tutti sapranno onorare i loro doveri concorrendo al rafforzamento delle istituzioni repubblicane. Quindi questo che ci è richiesto, questo anche per onorare la memoria di tutti coloro che si sono battuti per la nostra libertà. Questa libertà ha costituito il terreno su cui il nostro Paese si è sviluppato per tantissimi anni. È inutile non negarlo, ora siamo in una grande difficoltà, una situazione difficile, economica, sociale, di tutti i tipi. A 60 giorni dalle elezioni siamo sempre senza governo, una condizione quindi di anche impasse democratico. Io mi auguro che con l'incarico che è stato dato oggi, fra l'altro a una persona tutto sommato anche giovane, di una generazione diversa da quella che fino ad ora ci hanno governato, possa essere aperta una nuova strada, una strada di rilancio, una serie di iniziative che possono rimettere in moto il meccanismo dello sviluppo e il meccanismo della crescita. Questo lo dobbiamo, lo dobbiamo a chi ha combattuto, ha dato la vita e ha creato le condizioni per una società migliore. Non perdiamo questo tesoro, non perdiamo, teniamo insieme questo Paese, teniamo insieme questo Paese. In questo momento difficile bisogna tenere insieme questo Paese. Seguiamo gli insegnamenti del Presidente Napolitano, ringraziamolo ancora per quello che sta facendo in questo momento difficile anche a livello internazionale per dare credibilità. E per dare credibilità io sono perché si accetti tutti l'invito che lui ci ha fatto. Facciamo tutti nel nostro posto fino al massimo il nostro dovere. Onoreremo l'impegno che i nostri combattenti hanno avuto dando la vita per istituirci la libertà. Grazie. Ma io voglio fare un saluto per una festa, perché questo nostro appuntamento è una festa del quale dobbiamo ringraziare le associazioni tutte. E dobbiamo dire che è diventato ogni anno più bello e più coinvolgente. Intanto un saluto a queste due donne splendide che sono Osmana e Cesarina, che da anni, forse noi non abbiamo ben chiaro l'età di una signora, non si dice mai, ma non abbiamo ben chiaro quanto è che si impegnano in queste cose. È vero che è un momento difficile, però è anche vero che ogni anno riusciamo a trovare la forza di ricordare in maniera positiva un momento tragico. Io non voglio fare un ragionamento che faccia pensare che ci voglia dei disastri e degli eroi, perché secondo me invece ci vuole un sacco di gente normale che possa concorrere quando è giovane a costruire la propria felicità, che abbia la prospettiva di una possibilità di trovare un lavoro e soprattutto che abbia la prospettiva di fare le cose, come richiamava anche Giorgio, che sono dovere, rivendicando insieme anche i propri diritti. È questo l'insegnamento. Ci sono stati momenti terribili nella storia della Repubblica. I costituenti hanno sopportato di tutto. Vorrei ricordare che momenti difficilissimi sono stati anche subito dopo la guerra, però un punto è chiaro. Noi abbiamo una sorta di Vangelo laico, che è la Costituzione. E sulla Costituzione dobbiamo basare il rilancio di una nazione che capisca bene che il proprio ruolo è quello di costruire le opportunità per i propri cittadini. È un momento difficilissimo. Io non voglio parlare per un partito o per una situazione. Non è un problema di appartenenza, è un problema di visione. Dobbiamo pensare davvero che si costruisce il futuro partendo dai territori. E lo voglio dire con orgoglio perché il Goldone ha rappresentato qualcosa nella storia di questa nazione. Ha rappresentato un momento importante, anche in una differenziazione che poi la storia capirà, se era giusta o sbagliata. Ma ha rappresentato un motore. Perché quando si incontrarono per la Costituzione i costituenti non si domandarono di che partito erano. Decisero che lavoravano insieme per il futuro di questo Stato. Oggi siamo in una fase molto delicata e io devo dire la verità. Io ho un anno, un anno e qualche mese a scadere. Vorrei lasciare un testimone che dica che da Livorno si parte per una riflessione davvero sulla fase che stiamo vivendo. Una città a laboratorio intelligente come è sempre stata e che parte però dalla Costituzione e che parte dal valore di quelli che hanno fatto la resistenza. Non c'è bisogno di ricordare per celebrare, c'è bisogno di ricordare per sentirsi parte di un progetto che la Costituzione descrive. Il resto poi lo vedremo tutti insieme. Nessuno è un uomo della provvidenza e nessuno può pensare di risolvere i problemi da solo. Questa città, come si vede oggi, ha una tradizione democratica importante e noi la dobbiamo coltivare. Io vi ringrazio di essere qui e vi prego di pensare che aiutare le istituzioni significa costruire davvero un sogno anche per una città. Vi ringrazio. Grazie, grazie a te. Grazie, arrivederci.